Sarà il mare anche quest'anno a cullare il sogno di tanti amanti della specialità pattino e pedalò per una domenica di festa, perché il mare ospita il decimo trofero, il mare città di Alba Adriatica. Tanti saranno i partecipanti agonisti e non che si cimenteranno in una singola attenzione ricordando Maria Rosaria di Giandomenico. Siamo arrivati con molta fatica a questo decimo trofeo del mare, speriamo che le previsioni siano buone per domenica. Quest'anno ci sarà anche una prova, vediamo inserire oltre ai pattini pedalò e ai pattini per i bambini una gara di nuoto. C'è stata molto richiesta l'anno scorso e quest'anno tendiamo di fare anche questa gara di nuoto. Un aspetto importante è la macchina organizzativa che vede attorno a Bruno Di Giandomenico tanti partner, molti gli sponsor che hanno sostenuto e continuano a credere in questa progettualità che vede il mare protagonista e chi ama il mare soprattutto. Certamente, ho tanti amici che mi danno una mano, come sempre mi hanno sempre supportato. Io ringrazio tutti e speriamo sempre e così ogni anno di andare avanti negli anni. Una data importante perché dieci anni di un'associazione, lui sempre presidente, io sempre vicepresidente, qualcuno è venuto a mancare come l'anno scorso, un consigliere Oreste Silvestino che l'abbiamo mangiato ma come abbiamo fatto anche negli anni passati abbiamo sempre ricordato i ragazzi che hanno perso la vita del terremoto, Ivan Rossi, quindi non solo il ricordo della figliola di Bruno, grande ricordo anche a tutti i concittadini che ci sono venuti a mancare, è sempre un evento del mare, una gioia. L'appuntamento dove e soprattutto a che ora iniziamo? Domenica alle ore 9.30 presso le acque andistante il circolo nautico di Alba Triatica.